Buongiorno, sono il dottor Cabriamaglio, direttore responsabile e facente funzione della struttura complessa di medicina nucleare, coordinatore del centro della tiroide. I due centri hanno la stessa sede. Per quanto riguarda il centro della tiroide, è un centro voluto dai nostri maestri 15-20 anni fa per semplificare la diagnostica e la terapia delle patologie tiroidee. Immagino sempre questo centro multidisciplinare, ripeto, perché ci vuole il medico nucleare, ci vuole l'endocrinologo, ci vuole il chirurgo per poter fare una terapia completa e rapida. Immagino sempre questo centro con una porta d'ingresso e una porta d'uscita. All'ingresso il paziente entra, sa poco della sua patologia tiroidea, attraversa questo spazio immaginario e fuoriesce dopo il più breve tempo possibile con una diagnosi corretta e la terapia più appropriata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.